Si vede là, dall'alto dell'aroccio, la carovale che s'avanza, ci sono tavalli e cammelli, e con ora, si capitano, avvertiamo i nostri compagni, e dirà, ascoltiamo. Respiro appena, sesamo, sesamo, aprilì. Oh meraviglia, quale stupor, non credo agli occhi miei. Si vede là, doi, 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 doi. No nos dorsi a tu, da la visione, no nos dorsi a tu, da la visione, das a dia, das a dia, che non vi, asmodan. Grazie a tutti. Grazie a tutti.